Rischia lo stop l'attività lavorativa all'interno del Palazzo di Giustizia? Il presidente del Tribunale di Lecce, Francesco Giardino, dopo l'incidente avvenuto lunedì scorso in cui due donne sono rimaste rinchuse nell'ascensore rotto per quasi mezz'ora, non ci sta a vedersi ricadere addosso il peso di eventuali responsabilità. All'indomani dell'ennesimo stop forzato dell'unico ascensore ancora in funzione, infatti il presidente ha preso carta e penna indirizzando una lettera al presidente della Corte d'Appello, Marcello Dell'Anna, al procuratore capo Cataldo Motta e all'ordine degli avvocati. In questa situazione, siccome facilmente prevedibile dovesse cessare di funzionare anche quest'ultimo ascensore, si legge nella missiva, per evitare qualunque mia responsabilità ritengo inevitabile dover disporre la sospensione dell'attività e dei servizi del Tribunale Penale. L'ultimo blackout ha esasperato gli animi tra dipendenti, avvocati e giudici. Come dicevamo, lunedì mattina sono rimaste bloccate in ascensore una cancelliera e una uditrice. Le due dipendenti sono state liberate con l'intervento dei vigili del fuoco. In totale sono quattro gli ascensori in servizio nel Tribunale. Al momento, però, il funzionamento viene garantito da uno soltanto. Due ascensori sono fermi da oltre 15 anni. L'incidente occorso in ascensore rappresenta l'ennesimo disservizio, frutto di una situazione critica da tempo. I problemi che affliggono il Palazzo di Giustizia sono molteplici e ormai datati. L'aumento del carico lavoro, determinato dall'accorpamento delle sedi distaccate, ha determinato un flusso di utenti spesso ingestibile. Ora, però, le crepe strutturali e logistiche di un palazzo ormai vecchio rischiano di provocare il collasso definitivo.